Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io ti preghiamo, illuminaci non con la nostra ma con la Tua parola, guidaci sulle vie affinché le funzioni dello Spirito possiamo vivere giorno per giorno, ognuno secondo la sua grazia e il suo carisma particolare. Ti preghiamo Signore che l'esempio di coloro che prima di noi hanno vissuto in maniera così forte l'unzione dello Spirito, ti sappia coinvolgere e aiutare per farci vivere la nostra parte, la nostra missione. Te lo chiediamo a Dio Onipotente, per Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, l'altra volta abbiamo fatto, abbiamo visto attraverso la storia di Pietro, dopo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, come nei suoi primi anni di apostolato, Pietro abbia vissuto il rapporto con lo Spirito Santo e con i suoi carismi. Vi ricordate, abbiamo visto Pietro che con gli altri apostoli annunciava il Vangelo, a Pentecoste 3.000 persone convertite, una parola piena di spunta dello Spirito Santo che tocca il cuore a tutti. Abbiamo visto che Pietro, quando passava, la sua semplice ombra guariva tutti i malati. Abbiamo visto Pietro che ha risuscitato Tabità, Garzella. Abbiamo visto Pietro che ha comitato un paralitico. La vita di Pietro è sempre stata intrisa di grazie provocate dal dono dello Spirito presente in lui. Quindi Pietro ha fatto il Papa, il vicario di Cristo in terra, non con una grande cultura religiosa, non era laureato. Aveva una cultura per il tempo medio-bassa, per oggi sarebbe scarsissima. Pietro aveva un grande amore per il Signore. Pietro era stato spezzato nella sua superbia da Gesù Cristo, proprio nell'occasione del tradimento, lavato con la triplice professione di fede fatta all'incontro con il suo risorto dopo la risoluzione dei morti. e una volta che lui è spezzato nel suo orgoglio, una volta che lui vive veramente per il Signore, è all'altezza di guidare le pecore con un foglietto anche per lei. e quindi Pietro, vi ho visto come vive il suo primo anno di postulato, poi esercitare il suo ministero andando in giro per le comunità nate allora. Pietro non fa mai un apostolato statico, lui ha un apostolato itinerante, gli annunciatori del Vangelo hanno un apostolato itinerante, missionario, non possono rimanere fermi per la crescita spirituale di una Chiesa. Quello sarà un compito che verrà dopo, quando nasceranno i Vescovi, che sono i responsabili e i comitano cari, ma gli apostoli hanno di natura loro un compito itinerante di andare in tutto il mondo per l'annuncio del Vangelo, Pietro in particolare. e Pietro poi verrà a Roma, perché era allora la capitale dell'impero romano, la città più corrotta che esisteva, lì il Signore romanda insieme a Paolo, quindi due più grandi apostoli, e lì, dal grande male, fa la trasformazione in questa città, diventa il centro del cristianesimo di tutto il mondo. Come tuttora, Roma. Le reliquie che ci stanno a Roma, le stimoniante di Santi, se uno andasse in giro, pelinaggio per pelinaggio, per vedere la Santa Croce, passerebbe mesi interi a fare pelinaggio, e non finirebbe per quante meravigliose storie, reliquie, valori spirituali ci sono in questa città, che rimane la capitale del cristianesimo di tutto il mondo. Allora, Pietro ha vissuto bene il suo carisma, da pescatore diventato pescatore di uomini, ha exercitato questo compito profettitato del Signore, e vediamo un'altra persona, Paolo. prima di conoscere... Paolo vive una decina d'anni dopo Cristo, quindi lui personalmente non ha mai incontrato Gesù, e era troppo ragazzino, e stava da un'altra parte. Quando cresce, Paolo viene educato in una famiglia di farisei, osservanti, quelli proprio, noi chiamiamo le persone di questa categoria, integralisti, San Paolo era un integralista dell'Antico Testamento, e voleva farlo rivalere contro la setta che stava nascendo a quei tempi, quella dei cristiani, e lo faceva, come caratteristica di tutti gli integralisti, con la violenza. Faceva restare i cristiani, gli facevano conquistare i beni, rovinava famiglia, rovinava le persone, nel tentativo di soffocare il cristianesimo, mediante la biura della fede da parte di coloro che c'hanno parte. Allora, lui prende questa cosa come una missione importante per la sua vita. quando viene a Gerusalemme e dintorni, lui si mette proprio a tempo pieno a fare il soppressore della religione cristiana per difendere lo, si chiama lo jasbismo, della religione dell'Antico Testamento. Che cosa succede? Qui ci stanno delle cose importantissime da capire per capire come agisce Dio con noi oggi e in genere con gli uomini. Cominciamo a leggere Atti, capitolo 9, versetto 1,19. Qui vedete San Paolo che si chiama anche Saulo perché San Paolo c'era la doppia cittadinanza era un ebreo ma era anche cittadino romano cittadinanza come se uno è nato in Italia c'era la cittadinanza italiana però magari c'era anche i parenti in Argentina e c'era la cittadinanza argentina quindi doppia cittadinanza appartiene a due stati a due popoli allora come ebreo aveva un nome Saulo come cristiano scusate come romano aveva un nome Paolo Paulus in romano in latino antico sapete cosa significa? piccolo era bassotto di statura quel nome è fondato perché era piccolo quindi era intelligente ma non era un atleta una persona che imponeva incuteva in soggezione la sua statura per i suoi muscoli era piccoletta allora col nome ebraico Saulo Saulo spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore si presentò al sommo fecerdote e gli chiese lettere per le sinagogie di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catena di Rosalemme tutti quelli che avesse trovato uomini e donne appartenenti a questa via cioè il cristianesimo capite che razza di Fedentone rominava le famiglie rominava il lavoro della gente pur di difendere lo iabismo la religione dell'antico dettamento e avvenne che mentre era in viaggio e stava per vicinarsi a Damasco all'improviso l'avvolse una luce del cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva Saulo Saulo perché mi perseguiti rispose Saulo chi sei o Signore ed egli io sono Gesù che tu perseguiti ma tu altati entra in la città e ti sarà detto ciò che devi fare gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati e moduliti sentendo la voce ma non vedendo nessuno Saulo allora ti alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva nulla così guidandolo per mano lo condussero a Damasco e per tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda prima di continuare vi faccio alcune cose per farvi capire bene l'agire del Signore se Saulo avesse incontrato Pietro si sarebbe convertito cociuto testardo interrista come era non si piegava di fronte a Pietro manco se Pietro faceva vedere sotto gli occhi dei miracoli e perché ci tiene tanto il Signore a Saulo proprio per carattere che ci aveva perché era un uomo focoso era uno che si impegnava uno che un caterer e pillar non lo fermava in nessuno spianava tutto quando si metteva in testa una cosa travolgeva tutto e tutti era attivo era inventivo determinato lui usò tutte le forze che aveva per riuscire a spegnere il cristianesimo il Signore ha fatto questo ragionamento innanzitutto se faccio diventare il mio discepolo Saulo convertirò milioni di persone milioni non qualcuno perché lo dico con i viaggi che ha fatto numero due per convertire Saulo occorreva il suo intervento diretto di Gesù Cristo e questa è una cosa molto importante perché la conversione di San Paolo quindi non ha una mediazione umana ma viene direttamente dal Signore Gesù Cristo scavalca questa cosa io mi sono 18 anni chi sta degli autori della mia conversione Gesù Cristo chi è usato per portarmi a se stesso mia madre e dei catechisti che è venuta a predicare i mangiari in parrocchia attraverso di quelli il Signore mi ha convertito e non so voi tutti potete dire l'isola per la mia mia madre e mia nonna in quell'occasione in quell'incontro per San Paolo non c'è stato nessuna persona che Gesù Cristo poteva utilizzare per la sua conversione non avrebbe dato retta a nessuno per San Paolo c'è dovuto andare lui direttamente e andandoci lui direttamente Gesù ha dato inizio a una categoria di persone che nel corso della storia della Chiesa di Torno sempre state che si chiamano carismatici ma nel senso di persone che dall'inizio della loro esperienza di fede hanno avuto un contatto diretto con Dio scavalcando la Chiesa esempio classico padre Pio quando era ragazzino e non era padre Pio ma era Francesco Forgione e badava le pecore vedeva i santi per lui vedere i santi era una cosa normale tant'è vero che pensava che anche gli altri li vedessero e riuscire a capire che gli altri non potevano vedere quello che lui vedeva per lui era una cosa difficile li vedeva era una cosa normale li ha sempre visti lui è nato con questo dono di vedere i santi è nato carismatico a noi non ci è concesso questo padre Pio lo faceva padre Pio fa parte di quella categoria di persone che aveva rapporto diretto con Dio su Cristo scavalcando la chiesa nessuno è stato il padre spirituale di padre Pio si lui aveva il confessore aveva pure due tre volte persone ma la stragrande parte della sua vita spirituale tutte le cose tutte direttamente con il Signore le ha vissute San Paolo ripeto lui non ha mai visto il Gesù Cristo come Pietro Giacomo Giovanni sono ritrando insieme quando vede Gesù Cristo chi vede che cosa vede rispondete lui non vede una sagoma umana vede una luce una luce intensissima una luce del cielo così forte che lui sbatte per terra guardate quanto è bella questa cosa a padre Gesù Cristo come luce Saulo casca per terra che significa che il Signore ci sbalza dal nostro cavallo che è la superbia ci butta per terra ci umilia nel buon sento del termine ci fa stare a posto nostro quando si manifesta lui vede Gesù Cristo come luce luce guardate si ricorda qualcuno di voi quando San Giovanni descrive nel libro dell'Avocalisse le visioni riguardo la nuova Gerusalemme San Giovanni dice che nella nuova Gerusalemme cioè la nuova città dove abita Dio con il suo popolo non c'è più bisogno né di luce del sole di giorno né di luce della luna alla notte perché la illumina Gesù Cristo perché lui Gesù Cristo è la luce Gesù è la luce non è la luce in senso metaforico è veramente la luce significa che queste lampadine che ci sono qui accesi stasera sono un piccolo derivato della luce che è Gesù Cristo il sole e la luna sono un piccolo derivato della luce che è Gesù Cristo quando noi andremo di là non vedremo Gesù Cristo lui ci illumina e quando uno dal peccato si converte e passa alla santità in questo procedimento avviene una illuminazione passare cioè dal buio alla luce tant'è vero che i primi cristiani venivano anche chiamati i fotismos che in greco significa coloro che hanno ricevuto la luce gli illuminati da chi? da Gesù Cristo luce del mondo allora vede che razza di cose lui San Paolo nel suo ricordo profondo la radice della sua fede ha questa ha la luce non ha Gesù che mangia il pesce sulla riva del lago Gesù che predica sulla montagna delle beatitudini ha un contatto con Gesù Cristo diverso da quello che hanno gli altri apostoli ha un contatto diretto con Gesù Cristo risorto glorioso questo è molto importante perché San Paolo dirà che anche quelli che hanno conosciuto Gesù Cristo secondo la carne cioè prima della sua resurrezione di morti adesso non lo conoscono più così conoscono Gesù Cristo secondo lo Spirito Santo da risolto perché adesso Gesù Cristo è quello non è più quello che hanno visto prima della sua resurrezione di morti quello è un ricordo del passato ma il presente è che Gesù Cristo è luce che Gesù Cristo è corpo spirituale che Gesù Cristo è risorto guardate questo è molto importante perché le persone che hanno contatto diretto con Gesù Cristo e non hanno il contatto con Gesù Cristo attraverso la Chiesa sono quelle che il Signore ha usato nel corso della storia per tirare le orecchie alla Chiesa soprattutto la dualità ecclesiastica quando questa si allontanava dal Vangelo faccio un esempio storico famoso il Papa ai tempi di Santa Caterina da Siena era scappato da Roma e è andato a trasferirsi da Avignone perché a Roma rischiava la pelle ma il Papa è il Vescovo di Roma non di Avignone anche se rischiava la pelle doveva rimanere lì chi usa il Signore per far capire al Papa lo sbaglio e a convincerlo di tornare a Roma usa una ragazza fiorentina santa se dire toscana di Siena la quale era carismatica la quale era nata con il contatto con il Gesù il Padre Pio ce l'aveva visibili San Francesco ce l'aveva le stimmate cioè il buco dei chiodi la ferita dal costato visibile con le croste di sangue eccetera la casiera ce l'aveva invisibili che significa invisibili che lei soffriva del dolore dei chiodi del dolore dell'arancia sul costato ma nessuno vedeva niente è una forma attraverso la quale il Signore la teneva nascosta e nell'umiltà beh lei Caterina da Siena che il Papa però sapeva di essere che era lei una grande carismatica per ignorante non sapeva leggere e scrivere lei scrive delle lette per rispettare le lette del Signore le manda al Papa da Avignone e dice Bigliacco Codardo il Signore ti vuole qua giù a Roma ritorna al posto che il Signore ti ha affidato e il Papa ritorna a Roma obbedendo a Caterina da Siena a una ragazza Caterina da Siena è morta a 33 anni ha fatto questo ha tirato le lecchie al Papa e lui è tornato a Roma e ne ha fatto tante altre capite ora questa cosa Dio ha usato nel corso della storia della Chiesa tanti carismatici per rimettere sulla via giusta la sua Chiesa che nel corso della storia ha deviato in tante modalità esempio quando mai il Papa poteva essere il capo di uno Stato lo Stato Pontificio è una cosa anticristiana perché il Papa non è capo di un regno di questo mondo è capo di un regno spirituale regno di Dio sulla terra adesso Stato Pontificio esiste soltanto formalmente lo Stato Vaticano il più piccolo del mondo ma è un luogo dove non deve dipendere da altri Stati ma non è più un regno civile Papa Sisto il famoso Sisto V era tremendo faceva la lotta con i briganti ne ha fatti impiccare una marea quando qualcuno chiedeva una grazia per qualche brigante lui lo rifiutava sempre perché aveva paura di figurare come una persona debole e così il brigandaggio crescesse allora il detto Papa Sisto non perdona manca Cristo per quanto era dura e implessibile ma come sarebbe a dire è anticristiana questa cosa antistorica nel senso conto cristianesimo faceva così Papa Sisto siccome lui era di origini Grottammare e Montalto sono stati trovati i progetti perché lui era un grande era un geniaccio polietrico faceva di tutto l'ingegnere il genio e l'architore gli sono stati trovati i disegni che lui voleva fare smantellare il santo sepolcro la chiesa costruita sopra il luogo dove Gesù Cristo è stato così fisso e Calvario e il luogo dove Gesù Cristo è stato sepolto li aveva portati a Montalto nella cattedrale e poi aveva costruito una specie di autostrada che conduceva Montalto a Loreto cosicché le cose più importanti del cristianesimo il luogo dove Gesù Cristo è nato la casa di Nazareth e il luogo di Gesù Cristo è morto il Calvario e la tomba di Giuseppe di Rimatea fossero tutte nella sua terra ma uno può spostare la Basilica per una vanagloria personale di se stesso e della sua terra non ha potuto fare questo il Signore non gli ha permesso e tante altre cose allora i vari errori della Chiesa le varie devianze il Signore le ha corrette sempre attraverso questa categoria di persone carismatici autentici quelli falsi che hanno fatto un sacco di macelli per rimettere la Chiesa nella giusta dimensione però i carismatici autentici hanno sempre avuto nella vita grandi tribolazioni perché hanno sempre dovuto combattere contro il peccato della Chiesa la parte più dura e quindi grandi sofferenze grandi carismi sì ma accompagnati da grandi sofferenze ecco San Paolo è uno di questi continuiamo la lettura c'era a Damasco un discepolo di nome Anania il Signore in una visione gli disse Anania rispose eccomi Signori e il Signore a lui su va nella strada chiamata a diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso ecco sta pregando gli ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista rispose Anania Signore riguarda questo uomo molto udito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme inoltre qui è l'autorizzazione dei capi dei raddoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome ma il Signore gli disse va perché egli è lo strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni ai re i miei figli di Israele e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome ecco detto poco fa carismatico grande sofferente allora Anania andò e entrò nella casa gli impose le mani e disse Saulo fratello mi ha mandato da te il Signore quel Gesù che ti ha fatto sulla strada che percorrevi perché tu riacquisti la vista e si è colmato di Spirito Santo e subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista si alzò e venne battezzato poi prese cibo e le forze gli tornarono perché quando cascò da cavallo Saulo diventò cieco perché nell'occasione del battesimo mi sono cascati dagli occhi come delle squame riprese da vista secondo voi perché Gesù gli ha fatto questo segno con l'Antico Testamento era cieco attraverso di lui Gesù luce del mondo era vedente il passaggio dalla giicità alla vista la caduta delle squame è stato il battesimo il momento in cui lo Spirito di Dio è entrato in lui San Paolo quando scriverà nelle sue lettere di questo fatto sarà molto più esplicito e dirà che le cose che lui aveva imparato fin da piccolo riguardo a Dio con la legge di Mosè con tutto l'Antico Testamento che per lui erano la cosa più importante quando ha conosciuto Gesù Cristo li sono diventate così insignificanti dice la traduzione italiana del testo che dice la considerate come spazzatura robaccia da buttare via vi posso dire invece quale termine ha usato San Paolo lui dice che le cose che lui aveva scoperto cioè tutto l'Antico Testamento prima di incontrare di Gesù Cristo quando ha conosciuto Gesù Cristo sono diventate per lui come la scusate il termine la merda una cosa così franticia così insignificante che deve essere solo buttata via per aderire totalmente a Cristo perché quella è la verità il resto è menzogna allora il nome di Saulo già soltanto nominarlo creava terrore nelle persone Anania era un altro piccolo carismatico vedete come ci parlava con il Signore non soltanto in maniera così ispita ma proprio col dialogo però aveva paura di Saulo e Gesù Cristo deve dar coraggio ad Anania dicendogli che lui l'aveva fatto diventare uno strumento importante per proclamare il suo nome alle nazioni ai re ai figli di Israele con tanta mette tanta sofferenza perché per tre giorni e per le cinque tre giorni tre giorni i tempi di Dio passione morte risurrezione il terzo giorno di Cristo risorto il terzo giorno San Paolo è tornato vedente Dio ha dieci secondi sui tempi sono tutti segni tutte cose ben precise che Dio ha studiato fino all'ultimo dettaglio e se uno ha occhi per vedere le vede altrimenti rimane cieco allora vediamo che cosa dice lui si converte poi va a fare un periodo chiamiamo noi ritiro spirituale va nel deserto città per tre anni nel deserto dell'Araba e un catechista particolare si chiama Gesù gli comunica il Vangelo che lui avrebbe dovuto annunciare per il resto della vita e guardate la differenza Pietro Paolo Giovanni Simone Andrea il loro Vangelo lo annunciano in base a quello che hanno visto stando con Gesù Cristo e hanno sentito dalle parole di Gesù Cristo San Paolo che non aveva uscito Gesù Cristo diceva il Vangelo da annunciare da lui direttamente per cui quando scrive Corinti nella sua seconda lettera che ho deviato dalla fede dice oh che state facendo quello che vi ho detto io me l'ha detto il Signore direttamente come fate voi a lasciare cadere nel vuoto l'annuncio che vi ho dato voi non rifiutate me e le mie parole rifiutate Cristo che mi ha detto il Vangelo da annunciare a voi dice il mio Vangelo non è formato solo fatto da mani d'uomo è stato divinato direttamente dal Signore bene allora una volta che ha pregato eccetera che cosa succede atti 13 quindi alcuni anni dopo c'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri Barnaba Simeone Dettonigia Lutio di Cirene Manaen compagno di parte di Erode Tedrarca e Saulo mentre si stavano celebrando il culto del Signore e digiulando lo Spirito Santo disse riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato e pregato impose loro le mani e li congelarono se adesso vi chiedessi San Paolo perché si è messo a fare il missionario andando in giro per il mondo allora conosciuto ad annunciare il Vangelo lo ha fatto di sua iniziativa perché l'ha fatto questo è il motivo perché durante la riunione di preghiera con persone carismatiche però lo Spirito Santo attraverso una profezia data ad uno ha indicato le persone per una missione Barnaba e Saulo San Paolo quindi i viaggi che ha fatto San Paolo per il mondo non sono stati decisi a tavolino da qualcuno San Paolo l'ha fatti perché gli era detto proprio lo Spirito Santo attraverso una riunione di preghiera con persone carismatiche che avevano il contatto diretto con il Signore questo è importante perché fa capire che i progetti pastorali che facciamo noi uomini normalmente sono destinati a puro fallimento i progetti pastorali fatti decisi e comandati dal Signore quelli riescono quindi la missione di San Paolo adesso ci aveste la Bibbia vi farei vedere come ha fatto quattro grandi viaggi missionari quelli che sappiamo noi attraverso gli atti degli apostoli forse anche altre parti ha girato che noi non sappiamo e di cui non abbiamo un'idea storica ha fatto quattro grandi viaggi missionari per il bacino del Mar Mediterraneo toccando la Turchia la Grecia e Roma dove ha dato la vita aveva il Signore lui ha dato il Vangelo dovunque dovunque andava dopo qualche giorno si formava un gruppo di persone che lo volevano uccidere o perché predicava Cristo e c'erano anche lì degli integralisti dell'Antico Testamento che non vedevo sentire parlare o perché magari la sua predicazione dava fastidio agli interessi economici e alle persone ad Efeso Efeso era la quarta città dell'impero romano era in Turchia e torno a dire per quelli che non lo sanno la Turchia nei primi anni del cristianesimo era terra cristiana le lettere che Dio detta a San Giovanni in visione da dare le sette chiese sono tutte chiese localizzate nella Turchia nel corso della storia con l'invasione dell'Islam la Turchia è diventata islamica ma prima era tutta cristiana tutta adesso non tocchiamo questo tasto perché va bene questo è successo così San Paolo dovunque va rischia la pelle per non ciare il Vangelo sempre da questo punto di vista altro che figlio d'avventura ha passato una vita infame con la morte sempre dietro l'uscio di casa e con tante sofferenze ma quante ne ha fatte per il Signore San Paolo predicava il Vangelo con una parola unta dallo Spirito Santo e faceva guarigione in miracolo di tutte le categorie del genere per esempio Atti 14 8-12 c'era all'istra un uomo paralizzato alle gambe storpio della nascita che non aveva mai camminato egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi fissando con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato disse a gran voce un comando alzati dritto in piedi egli balzò in piedi e si mise a camminare guarigione istantanea la gente allora a vedere ciò che Paolo aveva fatto si mise a gridare dicendo in dialetto di Caonio gli dei sono scesi di noi in figura umana e chiamarono Banna Abazzeus e Paolo Hermes perché era lui a parlare a Lidd Pietro Goris scusate capito? paralitico dalla nascita come Pietro altro miracolo Atti capitolo 16 versetto 6 10 attraversarono quindi la frigia e la regione della Galazia poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia giunti verso la misia cercavano di passare in Bitinia ma lo Spirito di Gesù Cristo non aveva mise loro così lasciata la parte la misia scese la trovate durante la notte apparve a Paolo una visione era un macedone che lo supplicava vieni in Macedonia aiutaci dopo che ebbe questa visione subito cercammo di partire per la Macedonia ritenendo che Dio ci avesse chiamati a annunciare loro il Vangelo questa cosa mi ammazza nel buon senso del termine tu vedi come va la situazione fai un ragionamento dice ma qua questo è il posto giusto per predicare il Vangelo la riflessione dice no tu non sai cosa succederà quando vai leggendo il Vangelo lì quello è il posto più sbagliato che potresti scegliere per annunciare il Vangelo lì non si converte nessuno dischi la pelle tu ti ammazzano beh non vado qui vado di là no altro posto sbagliato e che devo fare allora dove appare di notte in sogno un Macedone a San Paolo vieni in Macedonia aiutaci ecco il posto dove dovevo andare a evangelizzare allora la domanda è questa chi stabilisce il piano di battaglia il progetto di evangelizzazione l'uomo o Dio chi deve essere a farlo finché ragioniamo col migliore dei nostri ragionamenti faremo sempre i buchi enormi quando cominceremo a fare quello che Dio sa che è giusto da fare cominceremo a fare un apostolato fruttuoso questa è una cosa importante da capire le nostre visuali sono sempre parziali sono sempre difficili sono sempre inficiate da tante cose noi non siamo onniscienti non sappiamo come si svolgerà la decisione in futuro con quelle persone in quella situazione Dio lo sa per questo l'ispirazione divina è anniversaria per poter fare un apostolato di successo in Macedonia nascono delle comunità cristiane persone si confettono nelle comunità di San Paolo per esempio i filippesi sono le trascritte ai filippesi una comunità nata dalle comunità di San Paolo in Macedonia altro miracolo atti 27 e 12 il primo giorno della settimana siamo venuti a aspettare il pane aspettare il pane era il modo di allora per dire la messa siamo uniti per celebrare l'Eucharistia e Paolo che doveva partire il giorno dopo conversava con loro e fece la pratica lunga parlò fino a mezzanotte c'era un buon numero di lampade nella stanza a piano superiore dove eravamo riuniti ora un ragazzo di un minutico seduto alla finestra mentre Paolo continuava a conversare senza sosta fu preso da un sonno profondo che successe sopra il fatto del sonno cadde giù dal terzo piano dormendo significa che lui cascò a terra senza ripararsi in nessun modo e si spezzò l'osso del collo minimo si squarciò il cranio venne raccolto morto Paolo era sceso e si spezzò su di lui lo abbracciò e disse non vi turbate vivo ma che cacchio gli stai a dire questo è morto guarda l'osso del collo spezzato poi risalì spezzò il pane mangiò e fece la comunione dopo aver parlato ancora molto vieno all'alba partì intanto hanno ricondotto il ragazzo vivo e li sentirono molto consolati ha fatto San Paolo una resurrezione di morti ultimo brano vi invito a leggere gli atti degli apostoli per intero vedrete quante meraviglie fa il Signore attraverso i suoi discepoli adesso vi rendere invece un altro passo preso dalla seconda lettera dei Corinti nella quale è successa questa cosa qui nella grande comunità di Corinto fondata da San Paolo in due anni di evangelizzazione che una volta che lui era partito per andare a evangelizzare altre città e altri posti subentrarono delle persone che dicevano noi siamo dei grandi carismatici con dei carismi superiori a quelli di San Paolo smettete di dare retta a lui dare retta a noi che siamo più vicini a Dio di San Paolo questi carismi non ce li avevano erano falsi erano degli imbroglioni siccome la comunità si spezzò e alcuni li credevano veramente grandi carismatici e altri no San Paolo doveva intervenire ha scritto a questa comunità almeno quattro lettere due sono rimaste nella Bibbia due sono state perdute e tra le varie cose che dice San Paolo per riportare i corinti sulla via giusta dice così loro dicono di avere grandi carismi vi racconto questa cosa che nessuno sa e dice così se bisogna vantarsi ma non conviene non ti dovrebbe fare verrò tuttavia alle visioni e alle relazioni del Signore le relazioni che lui San Paolo aveva ricevuto so che un uomo sto parlando di se stesso in Cristo quattordici anni fa se con il corpo o fuori del corpo non lo so lo sa Dio fu rapito fino al terzo cielo e so che quest'uomo se con il corpo o senza il corpo non lo so lo sa Dio fu rapito in paradiso e udite delle parole indicibili che quelle del mondo non si possono dire che non è legito da alcuno pronunziare per quanto sono grandi e sante di lui mi vanterò di me stesso invece non mi vanterò forché delle mie debolezze certo se volessi vantarmi non sarei intensato direi solo la verità ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi di più di quello che vedo sente da me e per la straordinaria grandezza delle liberazioni allora San Paolo fu rapito in cielo ed è il cielo a dei gradi di intensità di grandezza di ciminanza a Dio lui fu rapito fino al terzo cielo cosa significa terzo rispetto al secondo al quarto io non lo so proprio non lo so se non c'è stato mai lui non lo sapeva proprio perché c'è stato e lì ha udito parole indicibili cioè una parola che si dice in cielo una parola così santa e così elevata perché questa terra che siamo peccatori non si può dire nessuno è all'altezza spirituale di dire una parola che si dice in cielo e lui le ha udite queste parole allora dice questi che dicono di essere grandi carismatici hanno otto da Dio una cosa migliore di questa voi corinti svegliatevi non vi rendete conto chi state seguendo questo dice San Paolo per cercare di riportare i corinti sulla via giusta la battaglia con i falsi carismatici era una cosa di duemila anni fa tutt'oggi era la stessa cosa e ci sono persone che vantano grandi carismi e sono ipocriti e falsi e hanno anche la tonaca da frate da suora o da prete e quelli bisogna starci attenti perché fanno un sacco di danni facendo perdere la fede a tanti bene conclusione di questa catechesia questo è un esempio per dire che quando uno ha dei carismi come vive per il Signore cosa deve fare il Signore domanda chi deve guidare la Chiesa il Papa o qualcuno più in alto di lui uno dovrebbe dire ma il Papa è Cristo sulla terra risponde dovrebbe esserlo se è santo lo è se non è santo non lo è Gesù ha affidato a Pietro le pecore e l'ha detto fin dall'inizio che lui sarebbe diventato la guida del suo popolo tu sei Pietro su questa pietra fonderò la mia Chiesa ma gli ha dato l'esercizio di questo compito solo dopo che Pietro ha lavato con la triplice professione di amore a Cristo il suo rinnegamento triplice fatto nel cortile del suo Mosegno del Dote non prima quando Pietro ha riconosciuto i suoi peccati quando Pietro si è spezzato dalla sua pebbia e diventato umile allora era pronto per guidare il suo popolo che era santo se non si è santi anche se si ha l'incarico sua santità l'incarico è santo ma la persona che lo occupa deve essere santo di suo non perché si può coprire dell'essere papa per essere santo anzi i papi nella Chiesa più si vede in alto più il giudizio del Signore è severo per chi occupa posti più in alto se un laico fa un peccato sembra evidenti se un uomo sposato tradisce la moglie con un altro fa un peccato che vale 10 ma se un prete va con una donna di un altro sposata quel peccato vale 100 se ci va un vescovo quel peccato vale 1000 se ci va un cardinale quel peccato vale 10.000 se ci andasse il papa non ne parliamo quindi più si va in alto nel campo della Chiesa più il giudizio del Signore è severo è tremendo per la santità della persona quindi è un buon santo papa quello che è cosciente che non guida lui la Chiesa ma la guida Cristo mediante l'ispirazione dello Spirito Santo che lui deve raccogliere per poterle guidare bene la Chiesa esempio abbastanza recente di una guida buona della Chiesa papa Giovanni XXIII che cosa ha fatto la cosa più grande che ha fatto nel suo breve apostolato è stata quella di aver indetto il concilio Vaticano II che lui ha iniziato poi lui è morto l'ha continuato e finito papa Paolo VI in quel concilio fu tolto il latino come lingua universitaria della Chiesa e furono immesse le lingue del posto cosicché uno che va a messa oggi di fronte di prima ascolta le letture e il Vangelo in italiano non in latino si prega il Rosario in italiano non in latino si può capire tutto perché c'è stata questa autorizzazione di usare le lingue del posto per la liturgia per la Bibbia e per tutto il resto è stata un'innovazione magnifica prima Weiss nel latino era una lingua sacra non si poteva fare niente se non era fatto in latino la Bibbia adesso noi sacerdoti cerchiamo di inculcare l'amore della Bibbia a voi laici perché la leggiate e partecipate agli incontri dove si spiega ai tempi di Papa Giovanni XXIII la Bibbia era proibito leggerla perché solo chi la sapeva interpretare bene aveva la possibilità di leggerla e di spiegarla agli altri per paura che qualcuno desse le cattive interpretazioni veniva proibito di leggere la Bibbia al popolo Papa Giovanni XXX aveva il sogno la Bibbia in tutte le famiglie e poi domandò di questa cosa eccetera eccetera quindi sono stati Pape che hanno dato grandi svolte in positivo alla vita della Chiesa perché hanno avuto ispirazioni e decisioni che hanno impattato in positivo all'infinito chi deve vivere alla Chiesa l'ha portata da ciascuno chi deve guidare Don Marco a fare il parroco chi deve guidare grazie a fare la mamma e la nonna chi deve eccetera eccetera lo facciamo noi o lo fa lo Spirito Santo attraverso di noi è così questa cosa ci siamo arrivati a questo punto se facciamo così io farò bene il parroco tu farò bene la mamma e la nonna qual'altro farà bene il capofamiglia qual'altro farà bene il lavoratore eccetera eccetera se non facciamo così facciamo disastri con le nostre cose con le nostre qualità presunte poi seconda domanda come sarà il tuo futuro desideri la guida dello Spirito Santo lo Spirito ci vuole guidare ci vuole insegnare il nostro cammino vogliamo fare da soli o cerchiamo l'ispirazione vero Spirito Santo per fare il cammino fatto bene è chiaro allora significa che io penso che devo andare lì no lo Spirito Santo dice non ci puoi andare porca allora vado di qua peggio non ci puoi andare e che devo fare passo in Macedonia aiutaci altre cose altre scelte altre dimensioni di vita è lo Spirito di Dio che sa quali sono i nostri passi da fare i migliori quelli bisogna che facciamo quindi occorre che noi accettiamo la guida dello Spirito che può andare benissimo con il nostro modo di vedere e invece ci fa proprio del bene perché quella è la cosa giusta per noi ci siamo? benissimo questa è la catechese di questa sera le domande semplici apparentemente molto impagnative da vivere Signore ti preghiamo stendi la tua mano fra chi di sascuno begi con le dispirazioni dello Spirito Santo e diventi finalmente la nostra vita totalmente guidata dal tuo Santo Spirito che è presente in noi ci guida sulla via della Santità nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo buonanotte a tutti grazie a tutti